Max, quant'era fallo da rigore da 1 a 10 l'intervento di Lunardini e Dani Di Maietta? Parliamo di Pubio Verona perché sono mandolini si è infuriato per arbitraria. Secondo me è 11. 11, eh? A mio modesto parere questo è rigore tutta la vita. Alfredo? Sì, ho poco da aggiungere rispetto alle dichiarazioni di Massimo, sono d'accordo. Cioè, però qui è partita evidentemente che non solo poteva cambiare, ma sarebbe sicuramente cambiata e il risultato sarebbe andato a fannaggio del Verona perché era nel recupero. Sì, era nel recupero. È nel recupero, poi il rigore lo devi fare, lo devi trasformare, però, no, Alfredo? No, l'abito poi era anche lì vicino. È lì vicino. Lui sta calciando, lo mandano giù, questo non è rigore questo, ma vedi. Abbiamo un episodio a settimana, un episodio mi tengo basta. Se va bene sì, se va bene siamo rovinati. Siamo rovinati, se va bene, guarda. Ebbè, c'è poco, io penso che sia una di quelle situazioni come una foto senza di tascaria. Che devi fare qui come di tascaria? Sono le immagini che parla. Vai, Max. No, quello del Verona ti caccia il piede, vedi. Quello che gli mette il piede, no, 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 no. Niente da dire, bene. Le immagini sono chiare. Mi compagno.